Ciao 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 Signor Lupi, ci sono difficoltà? In che senso? Il suo ultimo romanzo risale a tre anni fa Basta guardarti intorno non puoi immaginare quante storie potresti scrivere prendendo spunto dalla realtà che ci circonda bene, il plot diventa sempre più coinvolgente Secondo te Una persona Nel proprio inconscio Può conservare un istinto omicida Non credo di aver capito bene Che inutilità Alla gente non gliele frega nulla di quello che scrivi A me interessa solo convincere il capo redattore Arriverà la tua occasione Ma lo sai cosa sei per me? Sei un mezzo uomo Vorrei ammazzarti certe volte Buon lavoro signor Lupi Aspetto sue, nuove